Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Il primo grande esperimento sull'alimentazione umana ci viene riportato proprio dalla Bibbia, quindi un testo molto molto antico. Quando Daniele e altri giovani rampolli di nobile famiglie vennero catturati da Nabucodonsor, che era il sovrano babilonese intorno al 1100 a.C., quindi parliamo veramente di tantissimo tempo fa. Insomma, questi vengono catturati da questo re, il re però li vuole trattare bene, e quindi è vero che li chiude nelle loro celle, ma vuole servirgli il pasto del re. Quindi decide di uccidere un animale al giorno, decide di dargli del vino, e quindi carne a tutto andare, vino a tutto andare, dolci preparati apposta per loro. Però Daniele e gli altri si rifiutano, dicendo alle guardie carcerarie, guarda, noi siamo abituati a mangiare cosa? Acqua, quindi dateci dell'acqua potabile, acqua naturale, dateci dei cereali integrali e dateci dei legumi tutti i giorni. E a questo punto immaginate, le guardie carcerarie che avevano ricevuto l'ordine dal re di dare il cibo del re, di dare il vino, la carne tutti i giorni, che dovevano disobbedire a questo re. E allora Daniele dice alla guardia carceraria, guarda, prova anche tu a mangiare come noi, e vedrai che dopo dieci giorni avrai la pelle migliore, un miglior colorito, e ti sentirei più forte, più forte addirittura dei figli del re. Insomma, fecero questo esperimento, mangiarono acqua, cereali integrali e legumi, e dopo dieci giorni apparivano tutti più forti, più belli, più lucenti, e più in forze soprattutto. Quindi mi raccomando, facciamo attenzione a mangiare le giuste cose. Grazie dell'attenzione e seguite i miei consigli. Ciao!